CERCATE NEL TEMPO Si sono già imbattuti in jeff e Elena. Dobbiamo tornare subito all'entrata. Eccolo! Sono qui! E' spazzato! Non provarci! Ora tocca a noi! Andiamocene da qui! Dobbiamo sbrigarci! Eccolo! Granata! All'inferno! All'inferno della dice! All'inizio apprenditi! Sì. Eh, sì. Via, via! Sei fattuto! È mio! Ok. Nate, allontanati da lui! Oh, merda! Dove sono finiti? Sapevo sarebbe successo. Di là! Stanateli! Eccoli! Abbattetela! Giù! Merda. Le volte vengono nei guai, non mi dire. Giù la testa! Muoviamoci! Meglio muoversi. È ferito. Sto bene. Vediamo. Ok, te la caverai. Ok. Riesci ad alzarti? Penso. Ok, dai. No. Ti aiuto io. No, 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 lasciala. Tanto è andata. Ci siamo. Nate! Sta bene. Vero capo. Ok. Apri quella porta. Non ce la farà mai. Dobbiamo lasciarlo. Cosa? No! Apri quella porta. Ci farai ammazzare tutti. Ok, amico. Merda. Andiamo. Porta. Hai, Nate. Ti copro io. Ok. Dobbiamo uscire da qui. Andiamo. Elena. Barra la porta. Tresa. Tresa. Ok. Dai! Nate, non ce la facciamo. Vai! Prendi questo, bastardo. Non mi sembra di me. Attenta! E' chiusa! Sbrigatevi! Dai, Jeff, ce la puoi fare. Andrà tutto bene. Vedrai che ce la farai. Cerca di resistere. Santino. Esci di qua! Apri il cancello. In atto! Elena! Giovane! No! Esci subito! Ehi! Senti qua! Non arredo. Forza! Posso crederci! Non posso crederci! Non posso crederci! Non posso crederci! Ehi! Ehi! All'inferno! Ehi, senti qua! Dai, forzalo! Su per le scale! Dai! Tutta questa fatica, neanche ci conoscessimo da... Tranquilla, ce la facciamo! Ma lui no! Non vorrei... Non abbiamo scelta! Non posso! Forza, Jeff! Ok, ci hai provato, ma è inutile. Non può proseguire. Non possiamo lasciarlo morire. È praticamente già morto e lo saremo anche noi se non andiamo. Allora vai! Già, nessuno ti trattiene. Clou! Sono entrati qui! Sono coltivo tempo! Cercavo solo di salvarti la pelle, idiota! Passù! Clou! Sono di qua! Che succede? Su per le scale! Mi dispiace. Gettate le armi. Non scherzo. Portatela fuori. È ferita. Portatela al treno. Incredibile. Non sai proprio cavartela da solo, eh? Beh, allora siamo in due. Non direi. Così, questo piccoletto è Drake. Lo hai trasportato dal tempio fino a qui. Peccato. No! Ora, dimmi cosa hai trovato nel tempio. La risposta che stai cercando. Ok? So dov'è la pietra, ma non la troverai senza di me. Perciò, se vuoi che ti ci porti, dovrai lasciarla andare. La mia ombra. Tu sei la giornalista che mi ha tallonato dall'inizio. Fossi in te, pregherei che non stia bleffando. Perquisiscilo. Andiamo. Questo è geniale, amico. Ecco. Sembra che tu non abbia più merce di scambio, Mr. Drake. Tornare al campo base, prepararsi a partire. Tu vieni con me. Tu. Penso a loro. Nessun problema. Come puoi lavorare per quel mostro? Meglio che averlo come nemico. E così è finita, eh? Ora ci ammazzerai a sangue freddo. Sembra proprio di sì. In piedi. Ho detto in piedi! Corri! Fermate! Vai, vai! Figlio di puttana! Non andrò in lontano! Ok? Già. All'imferno. Vai, vai, continua. Sono vicinissimi, Nate. Attenzione! Elena, non fermarti! Oh, merda! Di qua! Ok. Presto! Su, di qua! Nate! Che stai facendo? Forza! Presa! Dai! Di qua! A terra! Tutto bene? Sì, ma è stata meglio. E tu? Niente di rotto. Niente di rotto. Ok. Oddio. Ne abbiamo persi. Non avrei dovuto coinvolgerti. non è per te. Ho fatto tutto da sola. Eh, voglio dire, cioè, è tutto il resto? Beh, li conoscevamo i rischi. Ok, allora... Cosa facciamo adesso? Vado a cercarla. Ah, ma certo, è ovvio. Va a cercarla. Flynn diceva qualcosa di un treno. Forse l'hanno portata allo snodo ferroviario. Qui. Dovrebbe essere là, dopo la torre idrica. Nate, ci ha puntato una pistola. Lo so. Stava anche per premere il grilletto. Ma hanno fatto prima loro. È complicato. Sì, certo. Flynn sapeva che lei era con me. Se la Zarevich scopre che faceva il doppio gioco, sai cosa le farà? Sì, ho visto i suoi lavoretti. Allora sai anche che non ho molta scelta. L'onore dei ladri, eh? Qualcosa del genere. Spero che tu sappia quello che fai. Non ne ho la minima idea. Ah, certe cose non cambiano proprio mai. Ok, ma andiamo. Cosa? Oh, no, 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 no. Tu non verrai con me. Nate. Sta zitto. Ok? Un trenno ci aspetta. Ecco la poledica. Dietro di te. Dividetevi! Fermateli! Aspetta qui. Aspetta, sono ovunque. Come sempre. Mi serve un'arma. Hai trovato qualcosa? Non ancora. Si vede. Laggiù! Tomano. Sì. L va a trovare. Un'altra banda si fa. Un'altra banda si fa. Un'altra banda si fa. Grazie. Grazie. Colpita, eh? Li ho fatti fuori tutti da solo. Colpita? Non userei queste carine. Assù c'è una scalla antincendio, ma non ci arrivo. Ok, aspetta un secondo. Ok. Quando sei arrivata su, lanciamela. Ci siamo. Eccoci. Cosa chiamo? Ma è bloccato. Penso sia bloccato dall'altro lato. Il tuo passato al circo è già utile. Quasi. E vola. Prova adesso. Ok. E sbloccarlo. Buona idea. Ora sono colpita. Oh no! Abbiamo compagnia! Cavolo! Sono lassù a sinistra! Grazie a destra! A destra, a sinistra, sono ovunque! A terra! Ne spuntano altri! Ora ci sono tutti. Oh no! Guarda sotto di noi! Questi non finiscono. Qua penso io a coprirti! Ecco. Usa questa. Bene. Ok. Ci siamo. Non male per un modello dell'anno scorso. Aspettavo questo momento. Beh, siamo alla torre estrica. Ok, è fatta. Stai giù. Lo abbiamo, piano B. Ci sta lavorando. Eccola. Flynn l'ha presa. Ripensamenti? No. Ok. Lo spettacolo sta per cominciare. Dobbiamo agire in fretta. Ora vado laggiù da solo. Ma, Nate... Ehi, aspetta. Ora sta a sentire. Nel frattempo devi andare là a prendere una di quelle splendide fiammati. Quattro per quattro. Quattro per quattro. Tu devi stare alla guida. Io vado. Recupero Claude. E tu ci raggiungi da dietro. Con l'auto per la fuga. Con l'auto per la fuga. Sì, capito. Capito? Capito. Via! Tutto ok? Vai. Ok, fai attenzione. Vado falso per l'odore dei binari al mattino. Vediamo un po'. Ok. Preso. Saliamo qua su per una panoramica. Ecco il treno. Mi diavolo faccio scendere laggiù. Deve esserci un modo per uscire. Forse posso far muovere questo rottame. Adesso che faccio? Adesso che faccio? Sei grande, Nate. Dovrei essermi fatto lottare troppo. Voi idioti mi farete perdere il treno! Oh! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, vai! Allora, hai un piano C? Sì, accelera. Cosa? Salirò su quel treno. Ma sei impazzito? Avvicinati, voglio saltare. Credo che lo prenderò come un sì. A tavoletta! No! Allora, come farai a farla scendere da quel treno in corsa? Questo non ci ho ancora pensato. Certo che no. Ok. Ok, ci siamo. Ancora un attimo. Quasi. Ci siamo. Vai. Nora! Salta! No! 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 Devono aver portato Klon nel primo vagone. Maledizione! Salve ragazzi, devo solo controllare i biglietti. Oh, ma... 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 Non c'è l'arma. Ah, non mi dire! Devo scendere da quest'affare! Vai! Punizioni! Vi idioti, non vedete l'elicottero? Sono già abbastanza incasinato! Oh no, questo suono non mi piace! No, non è la merda, fino al fondo! Oh no, non vedete l'elicottero! Oh no, non vedete l'elicottero! Dio, grazie per le gallerie! Oh no, non vedete l'elicottero! 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 Diablo, devo trovare un altro passaggio! Seguitelo! Forza! Forza! Fatale, muori! Arrivano! Amin! Damiano! Ah! Ah! Grazie a tutti.